Dalle biglietterie e pagamenti unicamente online all'obbligo di mascherine anche trasparenti per facilitare la relazione con i non udenti, ma anche corridogli di sicurezza e segnaletica di distanziamento e controlli sul pubblico con termoscanner e percorsi di sanificazione. Queste alcune delle indicazioni di Safe Business, il progetto varato da IEG Italian Exhibition Group, che si sta organizzando per far ripartire le proprie manifestazioni in tutta sicurezza, tra queste anche Oro Arezzo in programma dal 18 al 21 luglio nel quartiere fieristico di Arezzo Fiere Congressi. Sono dunque in tutto oltre 50 le indicazioni tracciate nel progetto a valle di un rigoroso protocollo normativo e organizzativo. L'intera filiera degli allestimenti sarà così progettata e gestita in sicurezza. Il flusso dei visitatori sarà monitorato con rilevamento digitale centralizzato, previsto anche il presidio in loco di Stuart a teleguidati. Il progetto prevede anche la sanificazione a ciclo continuo per tutte le aree, sale e servizi, e l'igienizzazione per i filtri dei canali di condizionamento dell'aria, istituito poi un rigido protocollo di crisis management che definisce il comportamento in loco in presenza di casi sospetti. Per la ristorazione il progetto prevede il controllo della temperatura degli addetti, guanti, mascherine, camici, use e getta, pagamenti con app a salta fila ed infine delivery. Dipendenti IEG e personale della manifestazione saranno inoltre formati per garantirsi e garantire lo svolgimento delle mansioni in sicurezza. E proprio sul tema dei dipendenti la società ha annunciato di aver deciso lo screening sierologico di massa, ovviamente su base volontaria.